Hai deciso di acquistare un'auto ma vorresti qualche consiglio nella scelta? Nessun problema, il nostro servizio Concierge ti aiuterà nella scelta e usarlo è facilissimo. Vai sul sito rattiauto.com nella sezione servizi Concierge. Scegli le tipologie di auto che ti interessano, seleziona le tue esigenze, il numero di posti, la fascia di prezzo, gli optional di cui non puoi proprio fare a meno e scegli tra le numerose auto del nostro showroom. Se hai ancora dubbi sulla scelta dell'auto, nessun problema, ti basterà contattarci su uno dei nostri canali e un sales manager ti aiuterà nella scelta dell'auto più adatta a te e alle tue esigenze. Un team giovane, preparato e professionale che ti accompagnerà durante tutta l'experience. Non scegliere un'auto, scegli Rappi Auto. Sarge